carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi il signore fratelli glorifica il suo nome in mezzo al suo popolo e la volontà di dio è sempre la salvezza del suo popolo e il signore è glorificato nel salvare il suo popolo nel condurlo alla pienezza della vita e la volontà di dio anche ai nostri giorni che non solo la sua chiesa sia salvata ma che l'umanità sia salvata ma in che modo quale salvezza vuole dare il signore al suo popolo non è solo la salvezza dai pericoli che possono minacciare la vita o ridurre l'uomo in schiavitù la salvezza che di vuol dare è una trasformazione di vita vuol farci rinascere come dice ci sono evangelo se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di dio chiediamo al signore che ci dia questa visione di quell'amore che è vicino a noi in ogni istante della nostra vita anche quando non ce ne accorgiamo anche quando non siamo coscienti questa grazia è all'opera e anche i nostri giorni è all'opera dio ha un progetto sulla chiesa sull'umanità rinnovarla trasformarla farà rinascere dall'alto manda su di noi o padre lo spirito del tuo amore manda il tuo spirito e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra padre nel figlio tuo gesù cristo tu ci hai rivelato la grandezza della tua opera la bellezza della missione che ha fidato alla chiesa manifestala oggi con la potenza del tuo spirito e chiama tutti all'obbedienza al figlio tuo gesù cristo tu vuoi chiamare tutti gli uomini a entrare nel tuo regno ma con la veste bella con la veste anuziale con la veste della fede nel figlio tuo che viene riconosciuto il signore salvatore che viene riconosciuto vero figlio di dio vero uomo a te o padre sagra lode tutti per tutti i secoli dei secoli amen e oggi sentiamo fratelli nella liturgia la promessa del signore che chiama il suo popolo deportati in assilia in parte deportati in babilonia dispersi in tanti paesi di questo mondo il signore chiama questo popolo unità e a essere rigenerata rinnovata quando allora il signore dice le nazioni sapranno che io sono il signore oracolo del signore di dio quando mostrerò la mia santità in mezzo a voi davanti ai loro occhi dio manifesta la grandezza della sua opera perché tutte le nazioni della terra abbiano a credere lui e tornare a lui ed ecco la promessa del signore vi prenderò dalle nazioni mezzo a qua alle quali ho disperse vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati e purificati il signore non riprende il suo popolo come era partito dopo la prova che serve alla purificazione il signore lo rinnova lo rinnova così il signore si chiama oggi tutti noi fratelli ad essere purificati nelle nostre intenzioni nelle nostre opere ma soprattutto nello spirito interiore vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli vi darò un cuore nuovo non aggiuste il vecchio il signore il signore ricrea da capo ci genera nuova vita ci fa rinascere a nuova vita vi darò un cuore nuovo metterò dentro di voi uno spirito nuovo guardate cosa avviene a pentecoste come le anime degli apostoli sono trasformati vi metterò dentro di voi uno spirito nuovo nuovo toglierò da voi il cuore di pietra quel cuore duro insensibile ma sensibile al male ve lo tolgo e vi darò un cuore di carne c'è un cuore vero che sa che accettare di essere amato e di amare porrò il mio spirito dentro di voi porrò il mio spirito dentro di voi ricordate le parole del profeta Geremia quella che diceva scriverò le mie leggi nel vostro cuore non più su pietra come quelle che furono date a Mosè ma dentro di voi nella vostra anima porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme abiterete nella terra che io diedo ai vostri padri voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro dio in mezzo alle sofferenze della deportazione il signor fa brillare la sua promessa e indirizza il cuore di tanti a orientarsi verso l'adempimento di questo progetto che è un progetto di vita perché il signore è vita non è morte il signore è amore non è vendetta è giustizia e fa giustizia togliendo il male facendo rinascere i figli suoi a vita nuova perciò Davide nel Miserere dice tra l'altro crea in me Dio un cuore puro rinnova in me uno spirito saldo non scanciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito rendimi la gioia della tua salvezza sostieni me con uno spirito generoso sostienimi con uno spirito generoso insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno tu non gradisci il sacrificio il signor non vuole la sofferenza fino a se stessa se offrono caos e non li accetti qual è il sacrificio che Dio credisce allora? uno spirito contrito cioè pentito disponibile a lasciarsi rigenerare questo è il sacrificio a Dio un cuore contrito e affranto o Dio tu non disprezzi ora fratelli questo atteggiamento di conversione ci deve accompagnare tutti i giorni anche se abbiamo fatto un passo di convertirsi al Signore ma va ribadito va rigenerato va rinnovato va rivissuto perché le tentazioni come succede spesso ci assalgano ma anche la polvere quando cade si amucchia si sedimenta forma degli strati che copre la verità così il cuore dell'uomo deve essere svegliato dalla parola di Dio deve essere smosso per essere disponibile come ci dice il cielo dove Gesù narra una parabola che un re fece un pranzo ma gli invitati non solo non aderirono aderirono ma pre e sono a botte i servi e qualcuno li uccisero allora quelli invitati furono esclusi definitivamente dal suo invito e furono chiamati altri che prima non facevano parte e calore che il Signore chiama tutti i popoli della terra anche i popoli lontani popoli che non avevano mai conosciuto il Vangelo oggi vengono chiamati alla fede Signore Gesù tu sei l'oggetto della nostra fede tu ci fai rinascere attraverso la fede in te questo noi oggi ti chiediamo come Davide crea in me un cuore puro rinnovi in me uno spirito santo non respingermi dalla tua presenza non privarmi del tuo santo spirito Signore ti ringraziamo a questo ci stai chiamando tutti a lasciarci rigenerare ad accettare un cuore nuovo a togliere il nostro cuore di pietra e darci un cuore che sappia accogliere il tuo amore sappia amare come tu ci ami a te gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen vergine santissima premisse della redenzione regina del cielo della terra madre di tutti i popoli che ha ricevuto ogni onore dal figlio tuo partecipe alla sua gloria oggi guida anche i nostri passi verso il figlio tuo Gesù Cristo e rivestici di lui fa che non viviamo più di noi stessi ma di lui che è morto e risorto per noi e a lui salga la nostra no della nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli amen accogliamo questo invito oggi Signore fratelli a lasciarci rigenerare e ripetiamo ancora Gesù è glorificato non nel punirci è glorificato nel salvarci e anche davanti agli occhi degli avversari vuole glorificare il suo nome facendo risplendere la sua salvezza in noi a lui salga perciò la nostra node e il nostro ingraziamento e oggi impariamo fratelli a fissare lo sguardo su questo amore su quanto il Signore sta facendo anche se non vediamo non sentiamo anche se ci sembra che sia lontano il Signore sta operando e vuole manifestare presto la sua gloria a lui salga la nostra benedizione per tutti i secoli dei secoli amen e se vedete un fratello peccatore provate a proiettare su quel fratello la visione che il Signore ti dà il Signore sta operando per la sua salvezza e non l'abbandona il suo peccato ma lo attira da sé e lo fa rinascere non perdiamo mai questa fiducia amen